Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, e qui con me c'è mio fratello Aidan, che vuole essere chiamato X-Men, e ragazzi sono alla pizzeria, e oggi dobbiamo mangiare un bel coso, ma non si vede una ceppa di un amico? Sega, ecco, vabbè non si vede, e ragazzi questo vlog durerà poco, perché ci va di meno degli altri video, perché dobbiamo andare a mangiare, che si, tra pochissimi, quello che si parla è mio fratello, E ragazzi, in questo video, sentirete, un sacco di macchine, tipo quella che sta passando adesso, un sacco di cose, perché siamo, ragazzi, che si chiama, 900, sì, 900, 900 e 900. Un sacco di macchine!